Eletto in Consiglio Comunale a Bolzano nel 2010 sotto il simbolo del Popolo della Libertà, Vita Antonio Gambetti ha deciso di uscire allo scoperto presentando nome, simbolo e programma della sua lista insieme con Bolzano. Idee e progetti che servono, dice, ad aprire un dibattito. Il programma vuole essere un programma che porta avanti la nostra lista, che è quella che abbiamo elaborato con altri tre amici, la nostra lista che vuole tener conto delle tematiche, dei problemi sostanziali che interessano la nostra città. Se sarà possibile confrontarlo e integrarlo con quello di altri partiti, di altri movimenti, di altre coalizioni, dell'area di centrodestra o centro eccetera, tanto meglio. Se non sarà possibile allora dovremo per forza sendere da soli in campo. Veniamo al programma, si va dall'abolizione dei consigli dei quartieri, alla riduzione dei compensi per sindaco, assessori e consiglieri, aumento delle entrate per esempio attraverso la presenza del marchio di sponsor sulle aiuole pubbliche e poi cessione delle farmacie comunali, revisione della viabilità e dei parcheggi e ancora telecamere di sicurezza un po' ovunque. Grazie a tutti.